Città di Ariccia, consorzio produttore Ariccia Scarla presenta la 63esima sacra della porchetta di Ariccia. È una tradizione ormai consueta del settembre dei castelli romani che richiama migliaia di visitatori che ambiscono al panino con la porchetta lanciato dai famosi carri allegorici o dai balconi allestiti per l'occasione. Ed anche quest'anno nessuno ha deluso le aspettative. La porchetta è considerata un prodotto di punta dell'intera gastronomia italiana, un alimento storico e tradizionale e quello della sagra è una festa molto famosa per ricordare la tradizione e la storia del territorio abbinati alla maestria di coloro che producono questo particolare prodotto. Fare la porchetta è considerata un'arte tramandata di generazione in generazione dai produttori di Ariccia come si ricorda nel libro Ariccia Storia, Arte e Folclore del 1974 di Giulio Cesare Gerlini. Senti ma lave la porchetta ma come deve essere? Deve essere un maiale nazionale condito con sale, pepe, rosmarino ed aglio secco. Ha quattro ore di cottura e basta. La porchetta di Ariccia è fatta così, è una legatura particolare. Un cibo talmente gustoso e di lunghe tradizioni che ancora prima nel 1957 lo scrittore Carlo Emilio Gadda lo descrive nel suo romanzo Quer pasticciaccio brutto di via Merulana dove si legge come veniva venduta al mercato di Roma, carne fina e delicata per i signori proprio, assaggiata e provata, la vuodico io, sore e spose, carne fine e saporita. Vi piace la porchetta? Sì, molto. Venite spesso qui alla sagra della porchetta di Ariccia? Siamo inglesi. Ah quindi, di dove? Questo, di terra. Vi piace la porchetta allora? Sì, molto, molto. Momento clou della festa è la sfilata dei costumi storici a Riccini. E dopo la sfilata tutti ad aspettare il lancio dei panini. Ecco cosa ne è venuto fuori. Sempre bella porchetta di Ariccia, ha più migliore questa Ariccia, non dalle altre parti. È la cosa più bella che c'è stata. Ragazzi, è la prima volta che venite qui alla... Sì, è la prima volta. Aspettate solo il lancio del panino? Sì. Porchetta a volontà? Porchetta a volontà. Ma dove? Da Ciampino. Da Ciampino, da Ciampino. Aspetti soltanto il lancio del panino? Ci provo, si immutinano. Che vi aspettate? Tanta, tanta allegria, tanta allegria. Insomma, parliamoci chiaro, vi piace la porchetta? Come vi piace? Sì. Ma le piace la porchetta? Molto, è un buon prodotto. La mangia spesso? Eh, abbastanza, quando mi capita. Eccoli che arrivano. La famiglia, parliamoci! name isla! La famiglia, parliamoci! la famiglia! rotta! Rotta! Destruirà la famiglia! Ora, che per meaffetto? No! Uno! leave! 그렇죠! Alla現ita! è il primo che si è il primo non ne vuole prendere no 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 basta va bene così è la prima volta è forte sì ne ho preso uno solo ma hanno tolto ti devi impegnare di più sì sì ma devi strapparlo proprio con i denti cosa vi spinge a stare qui perché io abito una maliccia poi quindi tutti gli anni vieni qua tutti gli anni no comunque vengo molto spesso l'ha preso senti non c'è due senza tre eh speriamo è lunga è lunga è lunga ce la facciamo scusi quanti ne ha presi lei tre ma state in gruppo però sì sì da dove venite da quelli da prima quelli che vengono per mangiare da roma è la prima volta non è la prima volta no è la prima volta a zagra riccia la conoscevo avete fatto un piatto ricco oggi si oggi si mangia signora è riuscito a prenderne uno sì ma vi siete impegnati è caduto proprio qua c'è il proprio quattro ciccio signora ma voi siete da riccia sì 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 da tutti gli anni questa festa è bellissima quest'anno è bellissima anni che la fanno 63 quest'anno è bellissima proprio ringraziamo il sindaco è tutta la commissione ma vogliamo parlare della porchetta questa porchetta che è diventata così importante voi come ve la ricordate bene sempre così sempre la porchetta nostra è d'occhi d'occhi è la porchetta nostra a lei piace signora piace sì pure che fa male però piace piace assai ma abbiamo mangiato ieri l'altro ieri stasera magari dopo c'è via colica però la porchetta dovremo noi fai un bel morso dai ok ma posso mangiare non muaggio lo vediamo vabbè 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 c Grazie.